Il primo brano è titolato L'Umito Puritano che ricorda un evento del 1934, un'ordinanza arriva da Roma e impone che nella Via Nuova, che era l'attuale Corso Tacito, la gente non potesse attraversare la strada. Quindi c'è un metropolitano a impedire questo. E la gente deve muoversi verso il piazza Tacito in un senso e verso il piazza del popolo nell'altro senso, senza attraversare la strada. Forse per evitare che eventuali auto, eccetera, potessero verificarsi dei problemi. Il titolo L'Umito Puritano di Fulgenzio Proietti. 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 Grazie.